Le PIA che vanno a stare a casa su qua, il pensiero è qui a Salimona, più di 70 anni e ogni giorno ha aiutato la comunità con il canto, con la lucia, con l'accompagnamento, con l'occhio, con l'armonio. A ora, a tutto quello che ha fatto, anche come lavori di Pallina Maria, come il nostro tabernacolo e l'avore. Quindi non possiamo dire un grossissimo grazie al maestro Paolino per tutto quello che ha fatto, per questa che è la storia della casa, perché il pensiero è sempre rivolto qui alla casa del Signore. E questa è la storia della casa dove appena, normalmente. Quindi un po' di grande grazie per il suo esempio, anche come cristiano, come veramente figlio di questa chiesa della nostra comunità. Da parte mia e da parte di tutti quanti noi. Veramente grazie a Paolino e a tutti quanti anni. Almeno la doppia l'età, perché può eservire la nostra comunità. Veramente grazie a parte della scuola e a tutti quanti anni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.